Dal primo al 3 aprile Agriumbria, rassegna organizzata da Umbria Fiere, consentirà ancora al consumatore di scoprire un mondo, quello dell'agricoltura, quello della zootecnia, che a volte ha degli aspetti misteriosi. Ma lì potremo vedere la chianina, potremo conoscere gli elevatori, potremo parlare con chef e con maestri del gusto per capire cosa abbiamo nel piatto. Presidente Bogliari, cosa ci aspettiamo dalla prossima edizione della rassegna? Ma ci aspettiamo sempre i grandi risultati che abbiamo avuto fino al 2019. Noi siamo ripartiti con un grande coraggio, anche con l'edizione straordinaria del settembre di anno scorso. Un'anteprima per noi era la 52esima edizione, il 2022 sarà la 53esima. Sono tanti e tanti anni che noi viviamo con questa manifestazione che vuole rappresentare questo mondo, in particolare della zootecnia, come un mondo trainante di nostro sistema agricolo non solo regionale, ma anche a livello nazionale. Agriumbria ormai è stata dichiarata come l'evento fieristico sul settore agricolo più importante dell'Italia centrale e noi vogliamo mantenere anche i risultati che abbiamo avuto in tanti tantissimi anni. Quest'anno poi ci saranno le grandi manifestazioni, specialmente sul settore zootecnico, quattro fiere nazionali, la fiera nazionale della Chianina, della Romagnola, della Limussini e della Cirolet. Questo per dimostrare che, anche in accordo con la selezione italiana allevatori, Agriumbria ormai è stata definita come polo delle carni italiane. Quindi se siete interessati alla ciccia bisogna fare un salto agriumbria. Esatto, esatto, per conoscere tutti i segreti, perché poi Agriumbria è sì un'esposizione, ma è anche un momento di cultura, per parlare di alimentazione, educazione alimentare, per parlare delle nuove generazioni, per parlare anche delle organizzazioni dei nostri allevamenti, dei allevamenti che ancora costituiscono un punto di riferimento importante per tutto il settore agricolo. Francesco Fedeli, insieme al suo fratello Andrea, sono storici rappresentanti del mondo della Chianina, grandi elevatori molto stimati anche nel mondo delle razze bianche. Alle loro spalle c'è Italo, questo colosso che rappresenta il razzatore di casa di questo momento. Francesco, perché oggi ha ancora senso allevare Chianina? Più che senso è l'amore per questa razza, perché è una razza che non conosco le altre, però la Chianina ha una personalità, è un carattere e poi se la prendi ti trasmette qualcosa. Ti dà tanto? Ti dà tanto, ti capisce, si fa capire, non è traditrice, è una razza spettacolare. Da quanti anni l'allevi? Ho 69 anni e ne avevo due. Pezzettino ormai. Sì, perché mi caricavano sulle corna di quelle, perché una volta si andava al lavoro con le mucche, con le vacche e mi mettevano sulle corna delle vacche e mi portavano via in quel modo, invece sul passeggino della macchina, io avevo le corne delle vacche. Per dire, sono stato sempre appassionato, appassionato e il papà era più di me. Ecco, alle tue spalle c'è Italo, il vostro toro di casa di questo momento, un ragazzetto perché sono tre anni e quindi crescerà ancora un altro po'. Ancora crescerà un altro po', sì. Arrivando a che peso? Ma lui arriverà a 15, 16, 15 anni. Così, in leggerezza insomma. Buono, docile, tranquillo, fa il suo mestiere con le sue signore, che vanno dentro e vanno fuori. Loro fanno la loro vita, il toro vive con loro. È un toro importante perché trasmette benissimo, dà delle belle masse muscolari, dà ai figli anche un indole buono. Quindi anche il carattere viene trasmesso. Il carattere, ritrasmette un carattere di indole buono. E in più, anche la fortuna di trasmettere il latte. Nel senso perché il toro, con un buon toro fai una bella stalla, perché un toro fa parecchi vitelli e se il toro è un toro produttivo e interessante... Perché i tuoi vitelli mangiano il latte della fattrice. I miei vitelli mangiano il latte della fattrice. Anche qui c'è da sfatare il discorso che la chianina non ha latte. Mentre è una cosa non vera perché, almeno nel mio allevamento, perché io devo stare molto attenti quando nascono i vitellini di toglie il latte alle mandri perché ce n'hanno troppo. Perciò anche questo bisogna sempre stare attenti con la genetica, prendere animali geneticamente validi e fai la selezione in base alla produttività del latte, la bontà, il senso materno delle madri. C'è un lavoro da fare dietro. Siamo con Cesare Lucaccioni, maestro macellaio. Sì. Come ti devo chiamare? Maestro macellaio artigiano Umbro. Macellaio artigiano Umbro. Come ne conosciamo? Una carne di qualità, ma soprattutto perché la chianina è così buona? Allora, la chianina è così buona perché già l'animale stesso è un animale che viene allevato da piccoli produttori. E la peculiarità che ha, il disciplinare che impone il consorzio del vitellone è l'alimentazione. L'alimentazione è basata al 90% sui prodotti dell'azienda agricola. Foraggi, cereali, tutto all'interno dell'azienda agricola. Essendo piccoli produttori, piccoli allevatori, il benessere animale è elevato. L'animale vive bene, mangia bene e questo lo ritrasmette nella carne. Per riconoscere la carne chianina, la bistecca fiorentina chianina, ci sono due passaggi da fare. Il consumatore deve innanzitutto, appena entra all'interno del locale, guardare se il locale ha esposto il certificato del consorzio che ti garantisce l'allevatore, l'ingrassatore, dove è stato macellato, la macelleria dove è stato lavorato oppure il laboratorio e controlli se questo certificato esiste. Allora, il ristoratore può dire che è carne chianina. Per riconoscere una fiorentina chianina e GP, si riconosce innanzitutto dal marchio a fuoco che viene messo su tutta la mezzina del bovino, su tutta la carcassa. Questo marchio a fuoco è un marchio che lo riconosce dal consorzio. La differenza tra bistecca fiorentina e costata si nota da qua. Praticamente la bistecca con la closso T in mezzo e il filetto da una parte è la classica bistecca fiorentina. L'altra è una costata. Ottimo! E di questi argomenti ne parlerai insieme ai tuoi colleghi macellai, insieme agli elevatori, insieme agli chef, ad Agriumbria dal primo al 3 aprile ovviamente a Bastia Umbra. A presto!